mi può fare l'identikit del donatore uomo donna età che stile di vita anche deve avere diciamo che il donatore ideale è il più giovane diciamo che la categoria migliore se vuole è quella che si colloca fra i 18 20 e 40 anni persone in buona salute senza altri problemi senza altre malattie ovviamente lo stile di vita è importante insomma e l'alimentazione anche l'attività sportiva la pressione alta e quindi la fascia indubbiamente è questa perché è con maggiore probabilità che all'interno di questa fascia diciamo 20 40 anni 45 anni si trovano le persone in migliore buona salute e è chiaro che poi il momento in cui si identifica il potenziale donatore questo viene studiato per il suo stato di salute e quindi per la possibilità che effettivamente possa donare perché insomma alla fine dobbiamo curare una persona non dobbiamo danneggiarla